bentornati io sono luca e oggi vi parlo finalmente di lui il fuji 70 300 f456 l'ultimo nato in casa fuji un obiettivo che io personalmente ho aspettato per tantissimo tempo perché ho sempre pensato che ci fosse un gap da riempire fra il 55 200 e il 100 400 un obiettivo che potesse avere una maggiore lunghezza focale rispetto al 55 200 senza necessariamente spingersi a dimensioni peso e costi del 100 400 che è un obiettivo spettacolare ma diciamo è fuori da queste considerazioni quindi per me lo aspettavo da tanto l'ho preso al primo giorno come ho fatto con 1680 perché come per quel come in quel caso ero sicuro che l'avrei tenuto anche in questo caso sono abbastanza certo che questo obiettivo mi farà compagnia per tantissimo tempo ora prima di parlare delle mie impressioni due specifiche tecniche giusto per parlarne come detto è un 70 300 f456 che equivale a un 105 450 circa se parliamo di equivalenza con full frame è un 70 300 che è tropicalizzato con ghiera dei diaframmi con stabilizzatore che permette di accettare i teleconverter di casa fuji qualcosa che il 55 200 non può fare e che pesa circa 580 grammi che per un 70 300 così ben costruito e della qualità che sembra averne parleremo dopo non è per niente male anzi è una una gran bella cosa in più diciamo non ho fatto un boxing perché in realtà un boxing su un obiettivo del genere è inutile arriva con l'obiettivo i tappi il paraluce che ora monteremo e il diciamo la la custodia morbida che fuji ogni tanto da parlando di paraluce vedete che il paraluce rende abbastanza più grosso l'obiettivo e quando lo si mette a testa sotto cosa che si può fare con quasi tutti i paraluce vedete che il grip per la spero che si veda il grip per prendere la zoomata è piuttosto limitato ora per me non è un gran problema io non uso tanto i paraluce quindi mi limita relativamente però per qualcuno potrebbe essere un problema io lo lascio a casa l'ho tirato fuori dalla plastica solo per fare questo video dopo che tornerà a fare la muffa nel mio armadio detto questo sempre parlando di costruzioni ci sono un paio di cose interessanti che fuji ha fatto con questo obiettivo ha fatto sempre la solita idiozia che continuo a ripetere che è un'idiozia di rimuovere lo switch manuale per disabilitare lo stabilizzatore lo so stabilizzatore intelligente riconosce quando è sul cavalletto bla 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 lo sappiamo tutti per me io voglio comunque avere la possibilità di farlo con un tasto e quindi quello che mi succede è che devo aggiungere devo dedicare un tasto della macchina fotografica all'ingresso nel menu per la stabilizzazione cosa che su una macchina come la xt4 xt3 xh1 eccetera eccetera che sono piene di pulsanti non è un gran problema ma con la xe4 comincia a diventare un problema perché i tasti ce n'è veramente pochini comunque sia è una scelta di fuji credo che questo sia la direzione per il futuro non mi piace tanto ma non è certo questo che mi ferma da comprare l'obiettivo invece parlando di cose interessanti hanno aggiunto vedete questo tastino qui con la scritta lock con l'arancione è un blocco che permette di evitare che l'obiettivo shakerandolo si allunghi cosa che invece mi succedeva con il 55 200 è cosa ancora più intelligente è che non dovete pensare a sbloccarlo per cominciare a utilizzarlo perché basta girare ruotare la ghiera dello zoom non si sente un click sentito e lo zoom si muove tra l'altro come vedete si allunga abbastanza ma è qualcosa da aspettarsi insomma una zoomata interna su un 7300 di queste dimensioni sarebbe un sogno un miracolo ecco un'altra cosa interessante che hanno fatto oltre alla solita allo solito switch per passare i diaframmi da automatico manuale tipico degli obiettivi fuji con chiave di diaframmi ma con variabili quindi non con le scrittine sul barilotto hanno anche aggiunto ed è molto più importante questo un limitatore della messa a fuoco a due posizioni che permette di fare o l'intero range di focali e lo state vedendo in questo momento le capacità macro di questo obiettivo sono interessantissime perché metà a fuoco 80 cm come distanza di messa a fuoco minima e a 300 mm di questo significa ingrandire tanto il soggetto oppure si può andare a limitare soltanto da 5 metri a infinito il che permette di velocizzare tanto se si sa già che si sta mettendo a fuoco qualcosa di distante permette di velocizzare tanto la messa a fuoco anche se devo dire e sono stracontento di questo che dalle primissime impressioni sia su xt4 che su xt3 l'obiettivo è veramente veramente veloce metta a fuoco rapidissimamente e metta a fuoco molto accuratamente e tra l'altro è sufficientemente silenzioso non è proprio silenziosissimo si sente si sentono le lenti muoversi però è sufficientemente silenzioso e soprattutto è molto 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 veloce ora un obiettivo del genere viene normalmente paragonato al 55 200 tanti si chiederanno il perché chi sentiva la necessità del 70 300 quando cerchiamo il 55 200 bene i due obiettivi li vedete qui dal punto di vista dimensionale come vedete sono praticamente molto simili c'è un meno di un centimetro in più forse sul 70 300 in lunghezza il diametro del filtro è 67 su 70 300 e 62 su 55 200 ma il diametro dell'obiettivo in sé però è uguale quindi potrebbe sembrare più cicciotto ma in realtà non lo è ma cosa ancora più interessante il peso è uguale 580 grammi per entrambi e non dimentichiamoci che il 55 200 metta a fuoco a un metro e 10 quindi è più corto metta a fuoco più distante le capacità di ingrandimento col 55 200 non sono minimamente paragonabili a quelle del 70 300 ora mi direte sì ma il 55 200 è un 35 48 mentre il 70 300 è un f456 vero avete ragione voi ma a 200 millimetri il 70 300 sostanzialmente è a f5 il che significa che non c'è in realtà una differenza di luminosità fra i due obiettivi perché fra 4 e 8 e 5 a 200 millimetri la differenza è praticamente meno di un terzo di stop il che significa che sostanzialmente l'esposizione vi verrà uguale le problematiche saranno condivise eccetera eccetera in più il 55 200 dai 150 millimetri in su pure se è un obiettivo che io ho amato e straconsigliato tutti quanti l'ho considerato sempre un ottimo obiettivo per il prezzo per la dimensione per il peso però dai 150 millimetri in su aveva un leggero decadimento sulla nitidezza che veniva un po recuperato diaframmando ma non del tutto il 70 300 dalle primissime prove che ho fatto state vedendo adesso una foto che non è un granché però ingrandita vi mostra come anche 300 millimetri anche con soggetto distante il soggetto resta molto nitido bene dicevo il 70 300 sembra reggere le lunghe distanze in maniera migliore rispetto al al 55 200 quindi la motivazione per un obiettivo del genere di esistere c'è al di là della tropicalizzazione ovviamente che è comoda però voglio dire non 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 è un'inutile aggiunta ad un al corredo fujifilm ecco per me è un obiettivo che ha un senso ecco per me per esempio che mi voglio ogni tanto dedicare a qualcosa di avifauna ma non voglio spendere portarmi dietro il 100 400 perché lo userei troppo poco per giustificare quella spesa questo obiettivo ha tantissimo senso tra l'altro mi piacerebbe pure provarlo con i moltiplicatori di focale perché è chiaro che diventerebbe un 420 millimetri f8 con l'1.4 e un 600 millimetri f11 col 2x quindi si si perde la luminosità ma sarei curioso di provare l'autofocus e la resa dell'obiettivo con i moltiplicatori per vedere se è una un'opzione comunque fattibile tenendo conto delle limitazioni dovute appunto alla perdita di luminosità altra cosa che c'è da notare su questo obiettivo su 7300 come tutti gli obiettivi moderni di fuji purtroppo non è un par focale è un bari focale e come se dice 80 come tanti altri obiettivi zoomando si perde la messa a fuoco ed essendo un obiettivo un teleobiettivo questo salto è molto più visibile rispetto ad un grand'angolo il che lo rende particolarmente fastidioso diventa inutilizzabile come zoom durante i video per ovvi motivi diventa proprio inutilizzabile mentre con le foto ogni tanto si rischia di perdere il soggetto perché si passa da un soggetto a fuoco un soggetto completamente fuori fuoco ed è fastidioso ad ogni modo c'è da dire però che dal punto di vista video l'obiettivo si comporta benissimo dal punto di vista della focus breathing non ce n'è quindi da questo punto di vista un'ottima un'ottima cosa dalle mie prime impressioni posso dirvi che secondo me questo obiettivo è un perfetto compagno per l'80 200 sì va bene per il 16 80 perché le focali combaciano sono tutti stabilizzati hanno tutte e due ottime capacità macro non macro ma comunque di close up quindi è un compagno perfetto mentre per esempio accompagnerei il 18 55 con il 55 200 oppure prendere un 70 300 se si va in giro soltanto con un grand'angolo come per esempio dice Andy Manford va di solito con 10 24 e il 55 200 prendere il 70 300 per avere più gittata diciamo ma perdendo quella focale che va da 55 70 potrebbe rivelarsi un buco troppo grande quindi il bello di avere tutti questi obiettivi e che possiamo scegliere quello che più soddisfa le nostre esigenze io direi che per le mie prime impressioni che sono molto positive su questo obiettivo è tutto vi chiedo di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video se potete vedere altri video di questo tipo e di anche di altro tipo restate comunque sintonizzati perché a breve riparlerò delle xe4 parliamo di video con le xe4 parleremo delle xe4 dal punto di vista fotografico parleremo delle xt4 della oa 9 mm f2 8 insomma c'è tanta carne al fuoco riparleremo del 70 300 con una recensione più esaustiva quando avrò la possibilità di usarlo più approfonditamente per cui ho tanta carne al fuoco iscrivetevi perché credo che ne valga la pena fatemi sapere giù nei commenti cosa pensate di questo obiettivo fatemi sapere se siete interessati a prenderlo se avete qualcosa che vi interessa sapere che magari vi posso già rispondere o che volete che io testi nella recensione dell'obiettivo sono a vostra completa disposizione fatemi sapere ciao e ci vediamo alla prossima ciao ciao